Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Ilari Blasi ed il tradimento. La verità della conduttrice ha spiazzato tutti i suoi fan, così il suo matrimonio andrebbe totalmente distrutto Bella travolgente e stimata in tutto l'ambiente dello spettacolo Quello di Ilari Blasi è stato un percorso incostante crescendo in un ambiente sempre complesso come quello della televisione Sono passati tantissimi anni da quando Ilari ha cominciato il suo percorso al fianco di un mostro sacro come Gerry Scotti, interpretando il ruolo della letterina È stato proprio il programma Passaparola a dare il là a quello che si è rivelato un percorso molto particolare. Anche il mondo del gossip ha sempre avuto un occhio di riguardo per la showgirl Ilari Blasi. La sua storia d'amore con Francesco Totti, ex calciatore della Roma e della Nazionale, è una di quelle che ha attirato maggiormente l'attenzione in questi anni Il mondo dello spettacolo e quello del calcio che si incontrano e creano una famiglia che oggi è molto seguita sui social così come sulle riviste Ed infatti Francesco ed Ilari sono monitorati costantemente, ed anche negli scorsi mesi sono stati oggetto di un chiacchiericcio mediatico molto forte Addirittura si è parlato di una presunta rottura tra i due, a causa di un tradimento Il tutto, però, è stato smentito a più riprese. Addirittura l'ex capitano della Roma ha dovuto diffondere un video per spiegare chiaramente quanto tutte le voci che stavano girando in quelle ore fossero assolutamente prive di fondamento Certo, non è nemmeno la prima volta che si è parlato di possibili attriti tra Totti e la Blasi Anche se nulla, va detto, è stato mai confermato in maniera chiara Ilari Blasi e il tradimento, così finirebbe tutto.Insomma, tra Francesco ed Ilari le cose pare vadano bene Le voci sulla separazione sono state spazzate via dai due protagonisti Anche perché la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha già chiarito tempo fa quella che è la sua chiave di lettura riguardo situazioni complesse come quelle legate ad un tradimento Insomma, il matrimonio Totti Blasi potrebbe non andare oltre questo particolare elemento Come detto, è stata proprio Ilari a parlare nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni dei Belve La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere ad un tradimento, le ha chiesto la conduttrice Francesca Fagnani, che si è beccata la risposta lapidaria della sua ospite No, né dell'uno né dell'altra, le parole della Blasi che hanno così chiarito una volta per tutto il suo punto di vista Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao